Buonasera, sono Michelangelo, questa è una rapida sintesi della riunione del Movimento 5 Stelle di Udine che si è tenuta a Casaupa il 26 luglio 2011. Gli argomenti che abbiamo affrontato oggi sono vari ed articolati. Il primo è relativo allo spettacolo che stiamo organizzando e che sarà realizzato il 25 novembre a Pozzuolo. Lo spettacolo avrà il titolo Era il mio paese di benedazzo, abbiamo semplicemente discusso sull'organizzazione dell'evento. Abbiamo poi parlato di un prossimo incontro, scusate io sono Simone Pettarini, sono un intervento di Udine. Abbiamo parlato di un prossimo incontro che sarà sempre in periodo autunale e che sarà relativo al tema delle strage della mafia e anche relativo al giornalismo d'inchiesta. Di questo vi faremo sapere ulteriori informazioni. Il terzo punto posto all'ordine del giorno invece era relativo alla possibilità di mandare nel streaming le riunioni che noi facciamo settimanalmente. L'assemblea ha deciso che questa idea non è stata pronta. Abbiamo poi parlato dell'inserimento del sito del Meetup di un'area dedicata ai comunicati stampa e della stesura degli articoli che pubblichiamo sul quotidiano. Abbiamo raccolto un po' di idee e ci impegniamo a raccoglierne altre sempre sui giorni. La prossima riunione del Meetup sarà il 9 agosto. Grazie.